Grazie, innanzitutto grazie a te di questa bellissima iniziativa a cui ho voluto proprio contribuire perché penso che fare unire le forze, fare la differenza su dare delle informazioni che possono aiutare le persone a vivere meglio sia una grande mission oltre che divulgazione e informazione, proprio una missione, migliorare la qualità della vita delle persone. Io con molta umiltà perché dopo aver sentito parlare Biava, Burgio, Bonucci, Mauro Miceli, io parlerò solo da un punto di vista tecnico come sapete, non medico, ma penso che siano informazioni che possono essere utili. Allora ringraziandoti ancora Lorenzo, presento il corso di alta formazione che è partito al 31 maggio, ma è ancora possibile iscriverci recuperando anche le lezioni perse. Se è vero che tutto quello che abbiamo detto, quindi tutto quello che hanno appena detto i relatori, i medici, quelli che poi alla fine hanno a che fare con i pazienti, che la prevenzione penso che sia la cosa più importante, sapete benissimo che questi sono i fattori che condizionano la nostra salute. Quindi dall'epigenetica alla genetica, quindi l'aria che respiriamo, il cibo che mangiamo, l'acqua che beviamo, certo il movimento, la postura, tutte cose che sappiamo benissimo, probabilmente non stiamo facendo i conti abbastanza con un fatto, che questi fattori oggi non sono più quelli di 100, 200, 300 anni fa. come ci ha appena anche accennato il professor Burgio, ma anche lo stesso Bonucci. Il problema è che queste sostanze sono contaminate e se queste sostanze contaminate vanno a sprogrammare le nostre cellule prima, magari pensate alla salute dei padri e delle madri prima del concepimento, quanto queste sostanze possono influire? E poi pensate dopo da un punto di vista epigenetico quanto queste sostanze possano comunque condizionare la salute delle persone, intossicare progressivamente le nostre cellule, i nostri tessuti. Quindi è chiaro che poi noi a volte quello che non vediamo pensiamo che non ci sia, ma pensate ai danni da campi elettromagnetici, ne ha appena accennato anche il professor Burgio, su quanto questi probabilmente possano essere dannosi per la nostra salute, ma non solo solo dannosi da un punto di vista dei raggi e dei campi elettromagnetici, dei CEM, ma anche pensate al Radon che se ne parla pochissimo dei luoghi dove si vive, dove si lavora, dove si dorme, questo gas che comunque interferisce molto sulla salute delle persone. Pensate all'uso continuativo di apparecchi elettronici, telefonino e poi sapete l'apnei per voi è fondamentale e questo lo trattate spesso, ma la psico-neuro-endocrine-immunologia sappiamo quanto possa influire sulla nostra salute. Ecco, si è parlato di ossigeno, ma dobbiamo sapere che se l'ossigeno è davvero così fondamentale, la carenza di ossigeno provoca infiammazione silente e se questa infiammazione silente è presente dalla nascita, provoca un'acidosi, uno stress osservativo, un'infiammazione. Probabilmente questa che il grande Sergio Stagnaro ha definito già nel congresso di Siena 1981, pensate, ICA, Mestangiopatia congenita, acidosi, enzimo metabolica, è proprio dovuto a una disfunzione mitocondriale. Quindi se la mitocondrio non consuma in maniera ottimale l'ossigeno, questo poi si tramusi, viene rilasciato, non so se c'è un microfono aperto, se me lo tassi di per piacere. Questo si traduce in un'infiammazione silente che poi naturalmente con la concausa epigenetica può creare un problema. Quindi tutti i fattori devono essere considerati, anche la relazione medico-paziente che se ne parla pochissimo e noi proprio il 21 giugno faremo un corso specifico, chi è interessato può scrivere l'email, questo è un corso specifico su come comunicare e migliorare la compliance e quindi anche proprio la comunicazione, perché anche la voce cura, quindi la voce che cura. La tua voce può cambiarti la vita, pensate quanto sia importante la comunicazione verbale e paraverbale e questo lo faremo il 21 giugno. Ecco, allora noi abbiamo varie sfide, le sfide sono, quali sono le carenze? È vero che noi abbiamo visto che alcune sostanze importantissime possono risolvere molti problemi e supportare le terapie standard e quindi pensate ai risultati, l'abbiamo visto col professor Bonucci, quanto queste cose siano fondamentali, quindi la medicina integrata. Ma come facciamo noi a sapere qual è la situazione antiossidante del paziente? Come fa se non ha antiossidanti ottimali a contrastare l'eccesso di radicali liberi? Se ha uno sfido, se ci sono delle sfide ambientali, come dicevo, metalli pesanti, idrocarburi, radiazioni, come fa a saperlo? E pensate a livello gastrointestinale, adesso si parla moltissimo di questa grande lettura del microbiota, ma è chiaro che il sistema gastrointestinale influisce sul sistema immunitario, quindi bisogna fare tutto un discorso preventivo, gli acidi grassi essenziali e non solo omega 3, omega 3, 6, 9 e poi quale, quale tipo di omega 3, EPA, DHA, eccetera, eccetera. Quindi la carenza di amminoacidi che ricorda un ruolo fondamentale anche in questi pazienti. Poi la dieta è fondamentale, l'abbiamo visto, le carenze di vitamine, ma quali vitamine? E poi queste vitamine o minerali arrivano a livello cellulare, perché vedete spesso si fa un esame del sangue, trovi la vitamina B12 che è perfetta, però magari questa non arriva a livello intracellulare per tanti motivi, disfunzione mitocondriale, carenza di ossigeno, mancanza di altri oligoelementi magari che possono lavorare in sinergia e in antagonismo, come vedremo che dopo ci parlerà anche Daniele su questo. Quindi quanto è l'ultima volta avete sentito parlare di inquinamento? Esatto. Vedete noi, come diceva anche Mauro, allora noi mangiamo per produrre idrogeno e respiriamo per avere l'ossigeno. Dalla combinazione di ossigeno e idrogeno l'energia per la vita. Ma cosa mangiamo e cosa respiriamo? Non lo possiamo più scegliere. Purtroppo sì, scegliamo dei cibi migliori. Il biologico, abbiamo sentito prima quella bellissima lezione di 15 minuti dell'amico di Lorenzo. E purtroppo noi non scegliamo più, mangiamo cibi sempre più contaminati, l'apporto di ossigeno è quello che è, la respirazione magari in pazienti è compromessa, non si ha un adeguato apporto di ossigeno e c'è una combinazione della produzione di energia a livello mitocondriale, perché probabilmente c'è anche un danno a livello del DNA mitocondriale. Allora possiamo scegliere, certo, consigliare come fate sempre, far scegliere la paziente la dieta migliore, il movimento opportuno, ma non possiamo fargli cambiare città, lavoro, dove dorme, luoghi di vita, la casa. Come facciamo? Ci sono città che sono altamente inquinate. E allora come possiamo fare? Dobbiamo fare veramente unire le forze per una prevenzione preprimaria, per evitare le recidive magari, per evitare questo danno epigenetico dovuto dall'ambiente, le stress e l'eredità, perché tutto è epigenetica, come ci diceva anche il professor Burgi. Pensate alle malattie sui non è un aumento, l'abbiamo visto poco fa, soprattutto nei bambini, i tumori. E allora sono accomunati tutti da una carenza di ossigeno a livello cellulare mitocondriale, tessuto connettivo. La rimetilazione del DNA, probabilmente anche troppa in certi casi, o poca in altri, dove sappiamo che potrebbe essere anche semplice controllarla, la metilazione, se sappiamo come fare, sul controllo dell'omosisteina, i cofattori di vitamine, minerali, la vitamina B6, i folati, la B12, fondamentale. La esserosimetionina che non se ne parla, eppure è una molecola fondamentale di supporto epatoprotettore, disintossicante epatico, antidepressivo. Sappiamo che è una molecola consigliata dall'FDA anche in gravidanza e anche a supporto del paziente oncologico. Questo antistress per eccellenza è un donatore di gruppi metili, come sapete, e partecipa a oltre 60-70 reazioni metaboliche nell'organismo. Se fosse maromicelli farebbero una lezione di ore su questa molecola. Allora, se prevenire è meglio che curare, noi cosa possiamo fare? Partire dalla salute delle cellule, dei padri e madri, prima del concepimento. Cellule sane, come diceva anche il professor Biava, la riprogrammazione cellulare e i fattori epigenetici che ci permettono poi di differenziarsi in cellule sane, in persone sane. Quindi mettere al mondo bambini sani, ma dipende dalla salute dei padri e delle madri. Dobbiamo partire di lì. Già sappiamo questo da tutti gli studi fatti dal professor Luigi Montano sulla terra dei fuochi, questi ragazzi ormai sempre più contaminati da sostanze chimiche, addirittura a livello del liquido seminale, infertilità. E guardate l'Aerce, ce lo dice, nella comparsa dei tumori conta anche l'epigenetica. Ecco che dobbiamo unire le forze. Le mutazioni sono intrasmissibili. Pensate fino alla seconda, terza generazione. E questo è importantissimo, prenderlo in considerazione. E questi ormai, pensate, gli studi stanno andando avanti, si parla di quarta, quinta generazione. Ecco che dobbiamo tutelare la nostra vita, dobbiamo tutelare i nostri figli. Questo lo dobbiamo fare per un'adeguata informazione. Andare nelle scuole, andare negli asili, andare nelle famiglie. Perché vedete, il distruttore endocrini, particolare tutta fine, entra a livello fetale. E lì avviene la programmazione. Ma non c'è da andare molto lontano. C'è un documento ufficiale, Senato della Repubblica, effetti dell'inquinamento ambientale sull'incidenza dei tumori nelle malformazioni fetoneonatali ed epigenetica. Sapete cosa dice questo documento? 193 pagine. Dice che l'inquinamento determina una condizione progressiva proprio di malformazione, quindi trasmissione di malattie. Ma già a livello fetale. Perché? 460 mila morti l'anno in Europa per inquinamento. L'inquinamento prende il controllo del DNA e aumentano le malattie cardiache e respiratorie. Quindi è chiaro, l'infiammazione. Quindi 1,7 milioni di bambini respira aria inquinata. 95% della popolazione del mondo vive in ambiente tossico, pericoloso per la salute, soprattutto per i bambini, soprattutto per le donne in gravidanza. Cosa facciamo nei primi mille giorni di vita per le nostre generazioni? I metalli pesanti e i campi elettromagnetici. Guardate cosa succede a un cervello del bambino sottoposto al telefonino che magari regaliamo come babysitter per farlo stare tranquillo perché ce l'hanno tutti questo cellulare. Però guardate a livello cerebrale come danneggia il nostro cervello. A dieci anni, nell'adulto e sappiamo che ci sono state già delle sentenze definitive dove hanno dimostrato che il cellulare ha una correlazione su alcuni tumori a livello cerebrale. Certo, noi i danni da radiazioni lo vedremo tra dieci anni, tra cinque anni, dieci anni, quindici anni. È tutto ciò che noi stiamo vedendo col fumo di sigaretta. Vi ricordate quando la gente fumava da tutte le parti? Il fumo quanti danni ha fatto e sta facendo ancora oggi? Perché non abbiamo un'altra generazione da quelli che fumavano nei locali chiusi, nei cinema, nei teatri, negli aerei. E guardate cosa sta accadendo. E i campi elettromagnetici, la stessa cosa ai danni a livello cellulare. Guardate nell'acqua cosa fanno. E questi gli studi, linfoma, le ocemia e melioma, sono in aumento dovuti a campi elettromagnetici, antenne ripetitici, telefonia mobile. Questi, e questo è uno studio pubblicato, quindi incominciano a uscire anche degli studi importanti che mettono in guardia. Pensate adesso quando arriverà il 5G. Noi viviamo in quel modo e dormiamo nell'altro. E lo stesso i nostri figli. Allora mettiamo il cellulare fuori dalla stanza, spengiamo il wifi prima di andare a dormire e stiamo attento all'uso dei cellulari e dei campi elettromagnetici, il wifi. Perché poi è chiaro che c'è una stanza in chiesa cronica. Perché abbiamo un danno a livello cellulare. Noi siamo 100.000 miliardi di cellule e il danno lo facciamo al DNA nucleare, mitocondriale. E se questi DNA sono già compromessi dalla nascita, il problema si moltiplica. Perché le patologie iniziano a livello cellulare. Dove vivono le nostre cellule? Il mesenchima, il tessuto connettivo, il glicocalice, la lipidomica, quindi tutto il discorso della modulazione epigenetica delle membrane cellulari, i glicocalici. Quindi dobbiamo rimettere in moto il motore mitocondriale, la produzione di ATP, il giusto apporto di ossigeno perché poi inizia dalla carenza di ossigeno, il danno ai tessuti, e dall'eschemia riperfusione a livello microcircolatorio, a livello endoteliale. L'endotelio è un organo. Ecco l'importanza dell'ossigeno. Ecco l'importanza di rafforzare il nostro sistema immunitario per renderlo più forte oggi a delle contaminazioni che comunque oggi ci sono. Non le possiamo evitare. È un problema. Certo, se la conosci, limiti i danni. Però c'è poco da fare. Le case non le possiamo cambiare. Ecco che allora l'uomo all'età dei suoi mitocondri, ce lo dice un lavoro importante, ma ha moltissimi lavori, appartendo dal fatto che la disfunzione mitocondriale è legata a tutte le patologie. Pensate, linea materna, ce lo dice la Fondazione di Medicina Mitocondriale. Allora dobbiamo ricaricare le nostre batterie, dobbiamo lavorare sui nostri mitocondri, sull'ipossia, sul giusto apporto di ossigeno. Ma questo ossigeno deve arrivare perché anche in condizioni di normossia, e lo abbiamo visto, se c'è una disfunzione mitocondriale l'ossigeno non viene consumato e magari tu continui a fare il rifornimento, cambi la dieta, cambi di tutto e di più, ma quel mitocondrio non si sblocca e quindi continua a non consumare l'ossigeno ed ecco l'infiammazione silente, ecco che siamo sulla ruota dei criceti e incominciamo a amplificare il danno cellulare. Ecco l'epigenetica, ecco come l'ambiente agisce sui geni e questo tossico si lega alla coda dell'istone e questo provoca malattie, a cominciare dal cancro, malattie autoimmuni, eccetera. Allora gli interventi li avete già sentiti, quanto siano importanti, fino a farmaci chimici, da sopra l'integrazione, l'infiammazione, l'alimentazione, questa è prevenzione, sotto è terapia. Allora dobbiamo anche fare prevenzione, oltre che curare le persone, evitare le recidive magari, cominciamo a lavorare sul magari la carenza di ossigeno, sulla consapevolezza sul fatto che la frutta e la verdura di adesso non contiene più sostanze ottimali, ecco perché come diceva anche il professor Bonucci l'integrazione è fondamentale, integrare è veramente importante per superire alle carenze nutrizionali e dobbiamo anche conoscere quello che ci manca. Allora si parla non più di integratori, si parla di modulatori fisiologici perché come abbiamo visto certe sostanze diventano proossidanti se date ad alte dosi, devono essere biodisponibili, assimilabili, devono arrivare al mitocondrio, alle cellule, devono ripristinare quello che è la carenza di ossigeno che oggi non viene considerata, dovrebbe essere la prima perché è la vita, difesa è segnale, permeabilità, metabolismo, tutto dipende dall'ossigeno, l'elemento vitale. Perché l'elemento vitale? Allora pensate che la stessa reazione di ossigeno-idrogeno che avviene dentro i nostri mitocondri e cellule e noi siamo in vita grazie a questa molecola straordinaria che è l'ATP, riusciamo a respirare, parlare, pensare, fare di tutto. Questa energia straordinaria viene modulata dentro le nostre cellule, dentro i nostri mitocondri e la stessa viene fatta con l'ossido nitrico, ossigeno-idrogeno per tagliare le lamiere. Pensate quanto è potente questa energia che viene prodotta dentro i nostri mitocondri. Ma ce lo diceva Geaton, qualunque sofferenza o stato di malattia nasce da una sufficiente ossigenazione a livello cellulare, premio Nobel, non ci ritorno sopra, ma il premio Nobel 2019 è stato dato a questi grandi scienziati. Nel 2003, guardate, questo è uno studio pubblicato su Cancer Cell da Candiolo, dove hanno dimostrato che la carenza di ossigeno, lo vedete? Genera metastasi. Questo è un altro studio pubblicato e poi uscì il meccanismo che genera la metastasi del cancro è favorito dalla mancanza di ossigeno. E questo è uno studio, 5 anni, 21 paesi in Europa, riuscire a comprendere in che modo avviene la diffusione di tumori, l'insulgenza della metastasi è un problema fondamentale per la terapia oncologica. Un grande consorzio essenziale europeo ha concentrato la sua attenzione sull'ipossia. Questo è uno studio pubblicato in 21 paesi nel mondo, 5 anni, dove hanno ben evidenziato il fatto che dobbiamo migliorare l'ossigenazione cellulare, riattivare i mitocondri per far funzionare bene le terapie. Allora dobbiamo modulare l'ossigeno. Guardate i lavori, ipossia e cancro, circa 47.300 risultati su Google. Poi siamo andati su Pamed, 153.667 lavori che parlano di respirazione, di ipossia, del fetal programming a livello placentare. Vedete? Quindi importantissima l'influenza della corretta ossigenazione per la salute o per la malattia. È fondamentale modulare. Guardate questo, ipossia e cancro, 28.000 lavori. Quindi è fondamentale, prima di tutto, ripristinare l'adeguato livello di ossigeno. Qui basta andare anche sulla fondazione di Veronesi, il Nobel alla scoperta delle cellule risponde all'ossigeno. Il tumore cresce quando manca l'ossigeno, il legame tra Nobel e ricerca sul cancro. E ancora, beh, l'avete visto. Perché ipossia provoca infiammazione e quindi dalla cardiopatia ischemica fino ai danni a livello proprio, guardate, malattie infiammazioni croniche, sepsi. Questi sono studi naturalmente tutti pubblicati. Quindi grazie all'HF1 l'ossigeno risce come modulatore dell'assetto metabolico della cellula. Quindi è indispensabile proteggere questa situazione. E quindi l'attivazione glicolitica anerobica indotta da HF1. Ecco la carenza di ossigeno. E questo è un altro lavoro che vi ho portato, sempre Cordix. Guardate, i ricercatori europei hanno evidenziato che è un'associazione causativa tra i bassi livelli di ossigeno nel cancro e le modificazioni epigenetiche. Quindi questi risultati indicano che il ripristino dei livelli di ossigeno potrebbe risultare efficace come strategia antitumorale. E quindi le modificazioni epigenetiche come la metilazione del DNA. E qui si parla molto bene dell'apporto di ossigeno a supporto delle varie terapie per riattivare i mitocondri. Anche nel microbiota. Si parla di microbiota e anche in questo caso, guardate, le malattie mitocondriali influenzano il microbiota. E questo studio ha dimostrato, guardate, un'altra volta, i risultati supportano l'idea che le mutazioni del mit DNA, in fondo alla pagina, ereditate per via materna, influenzano sia il microbiota intestinale, sia le malattie esso correlate. E ne è fondamentale parlare di disfunzione mitocondriale. Anche proprio come nuovo paradigma per le patologie neurogenerative, i tumori. Questo è un altro studio fondamentale, importantissimo. Un altro studio per rafforzare la funzionalità mitocondriale sulle tossine dell'ambiente. E attenzione all'eredità, linea materna. E quindi dobbiamo ricaricare le nostre batterie, è fondamentale. Ecco lo studio di cui parlava anche Mauro Miceli, di semenza, proprio sulla regolazione di questo grande HF1. Quindi l'attività dell'HF1, l'attività di oltre 570 geni viene modulata dall'HF1. È fondamentale, è pubblicato su blog. Quindi, possiede cancro, l'abbiamo già detto, non ci voglio ritornare. Ricordatevi, è una malattia infiammatoria cronica intestinale. Anche questa dipende dall'ipossia, è un cross-told fondamentale. Quindi, l'uomo ha letto sui mitocondri. L'ipossia è fondamentalmente la condizione in cui si trova una cellula che non è adeguato ad apporto di ossigeno. Qualunque dolore e sofferenza cronica dipende dalla carenza di ossigeno. Allora, abbiamo scritto un libro, La modulazione fisiologica d'ossigeno non demanda, l'ultima sfida della nutraceutica, proprio per evidenziare il portare questa informazione a livello medico, con tutti i lavori scientifici, scritto insieme ad altri 18 medici, dove qui sono stati messi anche dei protocolli interessanti, dove Self-Food ricopre un ruolo fondamentale, l'abbiamo già visto. Perché Self-Food cosa fa? Prende la molecola dell'acqua, carica negativamente l'ossigeno, si lega a dei cali liberi e riforma ossigeno. Quindi, o viene utilizzato come ossigeno, perché l'ossigeno si forma all'interno, non è proossidante come respirarlo, quindi è un po' un modulatore come può funzionare benissimo anche l'ozono, terapia, come sapete. Però in questo caso Self-Food lo metti nell'acqua, lo bevi tre volte al giorno prima dei pasti. O ossigena, o fa un'azione antiossidante, o si lega all'idrogeno e riforma acqua. Quindi non sarà mai tossico. Pensate che una persona ne può bere anche 400-500 grammi, come abbiamo fatto lo studio, anche questo è importante. Quindi assenza di assoluta tossicità acuta o cronica. Quindi sicuro deve essere un nutraceutico. In grado di aumentare l'ossigeno fino all'80% e deve avere una capacità antiossidante se fa un'azione antiossidante. E lui ha una capacità antiossidante 30 volte più elevata del plasma umano. È un colloide, quindi è molto importante sapere che molti, come diceva prima, il sublinguale, come diceva Bonucci e i nutraceutici, devono essere presi per via sublinguale oppure prodotti che poi vengono assimilati, se no bisogna aumentare troppo il dosaggio. Come vedete, come ci dice il giornale di riferimento del lama, o spray o sublinguale sono molto più convenienti. Questi sono tutti gli studi, queste sono le cellule endoteliali prima e dopo. Tutti gli studi che sono... Ah, mi interessava farvi vedere questo studio su 230 pazienti con gruppo di controllo, follow-up di un anno, dove è stato associato naturalmente il nutraceutico deutrosulfazime su questo gruppo di pazienti con sclerosi muti, Parkinson, Alzheimer, eccetera, eccetera, con risultati importantissimi che non è in questo caso la sede per presentarvi. Comunque... Giorgio, cinque minuti. Sì, allora, i cinque minuti sono dal fatto che questi studi l'avete già visto, ricordatevi la modulazione del P53, l'alpoptosi, morte cellulare programmata nelle cellule leucemiche, vedete il CIMIC, il P53, quindi molto importante, questi studi l'avete già visti. Voglio concludere la fibromialgia, pensate quanto sia importante, come supporto in aiutare i pazienti anche cronici con malattie importanti per supportarli dagli energia nel recupero anche proprio associato a terapie standard come la chemio, eccetera. Guardate, siamo arrivati a 42% della stanchezza quotidiana, quindi studi importanti. E questo è un regalo importante che ho avuto l'anno scorso, uno studio pubblicato dall'Istituto Mori Regeneri di Roma, dove l'associazione combinata con self-food, radioterapia e chemioterapia ha ridotto la massa tumorale, in questo studio preclinico sui topini, purtroppo hanno fatto questo studio così, del 70%, riduzione della massa tumorale del 70%. Quindi vuol dire un ottimo supporto alle terapie. Questi sono tutti gli studi pubblicati. Concludo dicendo questo, che noi oggi possiamo fare la differenza. Come possiamo fare la differenza? Conoscendo anche i fattori che interferiscono sulla nostra salute. Per esempio, se noi prendiamo il bulbo del capello, come dice la NASA che lo utilizza per la salute degli astronauti, vedete, preleva il capello e valuta l'impatto ambientale di questi pazienti. E viene utilizzato, pensate, il follicolo del capello anche per i disturbi psichiatrici, per esempio. Ma pochi sanno che ha un biomarker fondamentale, uso per le sostanze superfacenti, uso per valutare la tossicità dei vari tossine in ambienti dove si lavora e sapete quanto sia fondamentale per i metalli pesanti. Daniele Vetti è un bravissimo su questo, lo fa da sempre per i metalli pesanti. Quindi se noi riusciamo a metterlo su uno scanner che valuta il contenuto di questo e le interferenze del bulbo del capello da agenti contaminanti e fattori carenti, noi possiamo creare un report fondamentale, specifico di tutte le interferenze che possono condizionare la salute e fare finalmente vera prevenzione. È questo che noi dobbiamo fare, prevenzione. Questi sono tutti i certificati, l'FDA ha detto che possiamo utilizzare per promuovere la buona salute e promuovere un sano stile di vita e motivare, incoraggiare le persone a raggiungere obiettivi di salute e benessere. Pensate com'è importante conoscere il fatto che una tossina, un additivo alimentare, una radiazione, stai vivendo in un ambiente malsano. Pensate. E poi permettetemi di concludere con l'amore per la vita, perché è l'unico regalo che non riceveremo mai due volte. Allora la comunicazione, i fattori epigenetici, l'amore per il lavoro che facciamo, l'unire le forze invece che coltivare i propri giardini è fondamentale. E poi ritornare ai valori, ai valori importanti come quelli della gratitudine e il donare speranza, speranza ai pazienti, speranza all'umanità. Questo è fondamentale perché dobbiamo migliorare questo mondo e lasciarlo meglio di come lo stiamo conciando, passatemi il termine. E allora ecco perché abbiamo creato questo corso, la relazione medico-paziente, il 21 giugno. Ricordatevi che la vita senza amore non ha senso. Grazie di cuore.